E' quasi un testa coda il match tra Checco dello Scapicollo e gruppo Project Immobiliare, valido per il ventesimo turno del campionato di Serie A della Lega Calcio A8. Gli Orange hanno il dovere di riprendersi la seconda posizione in classifica e di ostacolare la fuga del Cotton. Per farlo dovranno superare il gruppo Project Immobiliare che all'andata li ha fermati sul 2-2. Taglia che va in verticale, Torri prova a giocare indietro proprio con Ottombrini ma perde la sfera e il Project Immobiliare. Allora possibilità per il Checco col tiro della distanza e il vantaggio della squadra di casa che si porta in vantaggio appunto per 1-0 dopo appena tre minuti di gioco con la conclusione della distanza da parte di Di Palma. Parte Torri, pallone basso, possibilità! E arriva subito il pari dopo neanche un minuto dal vantaggio del Checco. Il pari realizzato da Esposito che al quarto di questo primo tempo riporta subito il punteggio sull'1-1. Deve appoggiarsi ancora a Cortese, scambiano i due. Cortese, prova lui a verticalizzare ora, trova Di Palma che prova nuovamente la botta! Va vicino al gol Di Palma, c'è stata anche una deviazione, sarà calcio d'angolo. Va proprio da Terribli, si trattava di D'Ambrosio, la verticalizzazione di D'Ambrosio verso Di Palma che prova un'altra volta col destro! E trova un altro gol, ancora Di Palma per il 2-1 del Checco dopo 11 minuti del primo tempo. Se la cava, Cortese, che poi sbaglia però il passaggio, attenzione, possibilità per il gruppo Progetim! E l'errore clamoroso da parte di Marinelli che è andato vicinissimo al gol del 2-2. Attenzione al gruppo Progetim che però non riesce ad andare in avanti, possibilità di contropiede con Di Palma! Che trova la tripletta personale, mattatore del match, il numero 4 del Checco dello Scapicollo che porta il risultato sul 3-1 quando è in corso il nono minuto della ripresa. Sulla destra, verso Cortese che mette a terra e va ancora dal numero 11, che libera il destro! E' male! Qui la risposta da parte di Scribano che non trova il pallone e permette al Checco di portarsi sul 4-1. Va via Valentini sulla destra, viene verso il centro il numero 13, libera il destro! Si fa perdonare Scribano con un grande intervento! Metà campo avversaria con Sbraglia che rimette verso l'area di rigore con le mani, possibilità di girarsi e calciare per Ottombrini, respinta, Chinali prova addirittura la botta, sfera che rimane lì per esposito e il mancino si distende Troisi! Reti oggi, pallone in verticale, il velo di Di Palma, possibilità per Valentini che si libera! Valentini! Lo scavetto di Valentini! E' il 5-1 del Checco dello Scapicollo che ora può dilagare seriamente a 10 minuti dalla fine. In favore del Checco dello Scapicollo, battuto verso il centro, arriva Quozzo da dietro e colpisce una clamorossa traversa! Possibilità di contropiede per il gruppo Progetim, pallone dall'altra parte, Torri mette verso il centro, chiude ancora la difesa del Checco della rete. Proprio Scribano, Quozzo in anticipo, Valentini cerca l'1-2, lo tiene ancora lo scavetto di Valentini! E questa volta arriva il salvataggio sulla linea, dirgli di no! E arriva, in questo momento, il triplice fischio da parte del direttore di gara, Checco dello Scapicollo 5, Gruppo Progetim Immobiliare 1, diventano 44 i punti in classifica per la seconda forza del girone. Gruppo Progetim che per un tempo e anche più ha giocato una gara dirigente, attenta, quasi perfetta. Poi sono venuti fuori i valori delle due squadre e il Checco ha delegato con un 5-1 finale.